Il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione negherebbe i principi di solidarietà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione, rendendo insostenibili le politiche di integrazione ed accoglienza dei migranti. Il neonato coordinamento per i diritti umani della provincia BAT lancia il suo appello ai sindaci del territorio perché non si adeguino alla nuova normativa nazionale. L'articolo 13, spiegano sindacati e associazioni promotori dell'iniziativa, stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non è più utile ai fini dell'iscrizione all'anagrafe e all'acquisizione della residenza, requisito fondamentale per accedere ai servizi sociali e sanitari. Secondo le stime dell'Anci, almeno 130.000 persone, pur presenti legalmente nel nostro paese, verrebbero risospinte nella dimensione della clandestinità. Con questo meccanismo si va a negare l'accesso ai migranti richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale, l'accesso a tutta una serie di diritti e di servizi che sono previsti dalla nostra Costituzione e soprattutto dalle convenzioni internazionali. Su questo punto sono intervenuti molti giuristi, molti costituzionalisti, tra cui anche il professor Cassiese, giudice emerito della Corte Costituzionale e la tese che si sta portando avanti, tesi giuridica, è esattamente questo. Non c'è un divieto di iscrizione anagrafica da parte dei comuni. Questo è un messaggio che dalla BAT vogliamo lanciare chiaro e forte. Quindi non c'è una impossibilità da parte dei comuni e soprattutto da parte degli uffici anagrafici di evitare o comunque di vietare o di impedire l'iscrizione anagrafica. Questo è un concetto che vogliamo ribadire per dare una base giuridica a tutti quei sindaci, speriamo nella BAT, che vogliono continuare a discrivere, a consentire l'iscrizione dei migranti nel registro anagrafico. Il decreto Salvini discrimina i migranti, ammoniscono dalla CGL rendendo più facile il loro sfruttamento lavorativo ed anche il possibile reclutamento da parte della criminalità. L'obiettivo quindi è di creare una rete mutualistica che possa aiutare tutti coloro che si trovino a subire gli effetti negativi di questa nuova legge. Quello che noi facciamo è quello di fare rete e anche quello di evitare che pezzi importanti, diciamo molti lavoratori che oggi stanno, molti ragazzi, molti immigrati che sono in attesa di un permesso, vengono cacciati nella clandestinità. Obiettivo nostro, concludo, è quello di evitare che molte sacche di emarginazione vanno alimentare il lavoro nero, vanno alimentare i ghetti, vanno a creare contraddizioni. Quindi l'obiettivo è quello di unire anche il mondo del lavoro, perché spesso attorno all'immaginario, cioè quella contro gli immigrati, facendo leva su una vicenda anche della crisi del paese, si sta creando una situazione non solo di sfruttamento al lato, ma anche di rottura del mondo del lavoro.